Buona domenica 9 gennaio. Molti sono gli avvenimenti che spingono a riflettere, a fermarsi anche a meditare, ma solo per un istante, sufficiente tuttavia per individuare una possibile svolta nelle nostre esistenze, perché è urgente cambiare radicalmente il nostro modo di vivere. Lo faremo nei tempi debiti, naturalmente, nei tempi necessari, e lo faremo con uno spirito nuovo, che dobbiamo però ancora edificare nelle nostre coscienze. Noi siamo attraversati ancora dallo spirito vecchio, da quello che ha vissuto per decenni, intorno a un'idea un po' folle, che la nostra felicità, la nostra gioia, si sarebbe concretizzata e realizzata nel godimento e nei consumi, e che il vivere questa parte del pianeta nell'agio e nel consumismo era più che legittimo per una nostra presunta superiorità, data tanto tempo prima in quella prospettiva razzista nella quale abbiamo immaginato che gli altri fossero degli incivili, delle persone inferiori, anche se avevano presentato all'umanità nel corso dei millenni, grandi civiltà che poi sono naufragate, sono andate al tramonto, esattamente come sta accadendo a questa civiltà occidentale, fondata sull'economia di finanza, sul denaro, sulla ricchezza, sulla centralità egocentrica. C'è proprio una centralità dell'egocentrismo, fissa, immobile, tutto deve ruotare intorno a lei. E allora quello che troviamo negli organi di informazione, in rete o nel cartaceo, sono notizie che lasciano interdetti e perplessi. In particolare una ieri mi ha colpito. Un'indagine fatta da un istituto di ricerca che ha cercato di fotografare l'identikit del Novax, anche questa modalità di fare ricerca che si cerca, si vuole rappresentare, assolutizzando la figura del Novax, senza tuttavia precisare che cosa significhi questa parola che sta diventando un epiteto spregiativo da gettare addosso a quelli che non la pensano come te, che non agiscono nel tuo stesso modo. È uno gesto spregiativo che allarga sempre di più i suoi confini inclusivi. Sei un dubbio, sei un Novax. Certo ci sono gli estremisti assoluti, i quali sono straconvinti che il virus non esista, che tutti i vaccini siano un intruglio malefico, che non intendono assolutamente porre limiti alla propria agire, che paradossalmente sono occultori di quel liberismo sfrenato senza avere le risorse per poter accedere agli strumenti del godimento e del consumo. Perché il quadro che viene rappresentato da questa indagine è che il Novax è una persona che ha la terza media, così nel titolo è scritto, che è povero, ha difficoltà economiche, spesso non ha neppure una casa di proprietà, mentre si vax, anche qui categoria astratta, perché si mette insieme una realtà molto composita tra i vaccinati. Una parte significativa lo ha fatto con spirito critico, con profondi dubbi. Gran parte è stata costretta dal fatto che se non l'avessero fatto avrebbero perso il lavoro e non tutti possono permettersi di sospendersi dal lavoro, perché magari sono soli, non hanno un altro reddito su cui condividere le necessità della vita quotidiana. E non è un atto di codardia, quello di fare qualcosa di cui non si è convinti e che si condivide con una parte significativa della popolazione, dentro la quale ci sono anche quelli che pensano che l'unica soluzione possibile a questa pandemia sia il vaccino, nonostante l'evidenza dei fatti che ti mostrano come il contagio non si stia riducendo. Ripeto ancora, effettivamente le persone che hanno una parziale immunizzazione corrono meno rischi di ammalarsi, ma non di contagiarsi e di contagiare. E a questo proposito ricordo come i giornalisti nei mesi precedenti hanno fatto una pessima opera di informazione, perché hanno costantemente invitato la popolazione a vaccinarsi perché avrebbe potuto vivere libera, senza le mascherine, abbracciare le persone, incontrarsi, andare al bar, in discoteca. Questo era il modello che veniva veicolato dai giornalisti liberal-democratici, vagamente progressisti e sempre orientati ad affermare una sorta di rito pagano, lo dice la scienza. Ebbene invece i psivax vengono rappresentati come, attenzione, ricchi e istruiti. Ecco, qui nasce una grande contrapposizione. I poveri e i ricchi. I ricchi come icona della normalità, della democrazia, della buona coscienza morale, dei cultori. Di che cosa? E non certo del bene comune, perché se uno si arricchisce è chiaro che ha una prospettiva profondamente individualista. Se uno fa bene il proprio mestiere, viene giustamente pagato, guadagna e poi contemporaneamente investe. Una parte significativa di quello che guadagna per il bene comune, è chiaro che non può comprarsi tre, quattro case, non può assolutamente condurre uno stile di vita che viene considerato invidiabile, con conti in banca significativi, con investimenti in titoli finanziari, che molto spesso hanno, nell'industria che finanzia la ricerca, uno dei punti di riferimento più solidi. Non dimentichiamoci che l'industria farmaceutica, che ruota intorno a questa soluzione semplificata della pandemia, in questi mesi, questo ormai anno, e anche prima, quando ha annunciato che il vaccino era pronto, ha fatto crescere esponenzialmente il valore dei propri titoli, ha guadagnato. E allora noi ci troviamo di fronte a una nuova forma della lotta di classe, che non è più tra progressisti e conservatori, tra destra e sinistra, ma è come sempre, tra ricchi, una netta minoranza, che ha in mano le leve del potere e dell'organizzazione sociale ed economica delle società, e una stragrande maggioranza di popolazione, che sempre di più scivola verso un reddito progressivamente più basso, che è pronta a essere anche abbindolata da una sorta di splitting politico, c'è una divisione apparente della politica tra populisti e progressisti. Sono due facce della stessa medaglia, perché nessuno di loro, né i leader populisti, né i leader progressisti, intendono stabilire un cambio di rotta radicale rispetto alla questione di fondo, che è rappresentata dalla ingiustizia sociale, dalla crescita della disuguaglianza, dalla aggressione nei confronti del pianeta per mantenere un modello di sviluppo consumistico, e anche è caratterizzata questa modalità espressiva di quella medaglia a due facce, caratterizzata da liberati democratici e conservatori populisti, è caratterizzata anche dall'idea che il popolo sia qualcosa da consultare semplicemente in occasione della costruzione del consenso. E quando il popolo investe il proprio consenso verso figure populiste e conservatrici, come è accaduto nel Brasile, il Bolsonaro, nell'America di Trump, nell'Italia salviniana o della Meloni, o nel crescente consenso di Marine Le Pen, o a destra francese, bene, o quel conservatore di Boris Johnson, che ha raccolto i voti dei laboristi. Allora qui mettiamo in discussione radicale proprio la dinamica stessa della democrazia, sempre più atrofizzata e azzoppata. E questa pandemia è un fenomeno molto complesso, che non si avvale di un pensiero, purtroppo, nella sua gestione, che sia incline alla complessità, cioè un agire trasformativo, fonte di apprendimento. No, noi semplifichiamo semplicemente con quelle affermazioni del lo dice la scienza, come se la scienza fosse una realtà astratta, una sorta di religione. Si parla della comunità scientifica, no, esistono le comunità scientifiche che non possono sottrarsi. Da dare delle risposte, o comunque sviluppare delle domande relative alla questione etica. Quali sono le conseguenze del indirizzare la ricerca verso un certo filone, piuttosto che un altro, relativamente al bene comune, alla pace, alla lotta contro le disuguaglianze? quanto la mia carriera verrà condizionata dagli investimenti del capitalismo finanziario sulla ricerca, perché se non ho i fondi, non faccio ricerca, non pubblico, e mi tranciano la carriera. Allora divento tentennante, so bene che sto mentendo, lo faccio in maniera elegante, ho pubblicato, sono uno scienziato, non sto parlando di me naturalmente, sto parlando di una soggetto immaginario, il quale diventa sordo e cieco di fronte alle obiezioni che altri suoi colleghi incominciano a fare, incominciano a vedere, e ci sono delle contraddizioni palesi. Ieri c'è stata una bella trasmissione, sostanzialmente, sull'ipotesi Gaia. Tutto bene, tutto bello, Marco Paolini e Telmo Pievani hanno presentato delle questioni ecologiche profonde, ma quando si è trattato di andare nel merito su questa pandemia c'è stato un piccolo dettaglio che non poteva non sfuggire, perché era talmente piccolo che è passato e scivolato, ma focalizzando quel piccolo dettaglio che era relativo all'origine del virus, ci si è affrettati a chiarire che, sì è vero, ci sono dei rischi nei laboratori a massima sicurezza, nei quali si coltivano e potenziano patogeni, si è anche detto, ma troppo tra le ricche. Ci sono delle tecniche, lo dicevo ieri, di potenziamento dei virus e subito ci si è premurati di chiarire che lo fanno per il bene dell'umanità, perché vogliono anticipare il processo evolutivo che richiede tempi molto lunghi, ma ci si è dimenticati, visto che si parlava di ecologia, che quei tempi lunghi sono i tempi dell'adattamento, se noi acceleriamo andiamo decisamente contro oratura, in nome della tecnica, non certo della scienza, è chiaro che quelle accelerazioni, quelle conservazioni di sieri che contengono dei virus altamente patogeni, e che possono sfuggire da quei laboratori, lo si è detto, anche qui, piccolissimo dettaglio, una frase di passaggio, ma subito ci si premura che no, la sicurezza è garantita, e si è dimenticati di affermare che questi laboratori, quelli a più alta tecnologia e sui quali si fanno i maggiori investimenti, generando poi una ricerca scientifica assolutamente dipendente dagli interessi economici, non certo del bene comune, certo si è anche affermato che sarebbe giusto che la ricerca fosse finanziata da fondi pubblici, ma la parentesi si è subito chiusa. Allora vedete, da questi piccoli dettagli, dove non si vuole assolutamente accettare un'ipotesi che è anche plausibile, certo deve essere dimostrata, così come deve essere dimostrata l'origine naturale di questa pandemia, non è mai stata dimostrata. La specie serbatoio, poniamo che siano anche i pipistrelli, non ha poi trovato un riscontro in una specie intermedia necessaria per il salto poi di specie verso la specie umana. Si sono buttate lì tante ipotesi, ma che non hanno trovato delle conclusioni significative. Su questo almeno si abbia il coraggio, la dignità e la decenza anche, di dire non sappiamo e sottolineare, questo è un modo di costruire l'informazione, come oggi la ricerca scientifica sia fortemente condizionata, non sia libera e quando è così non è più scienza, è uno strumento nelle mani di quella modalità di organizzazione della società nella quale la politica si è sfumata in una stessa medaglia a due facce. I progressisti e i populisti, i quali hanno in sé nella loro minoranza tracotante, nel loro essere minoranza tracotante, hanno in sé uno spregio nei confronti del popolo che appunto descrivono come ignorante, incapace e inferiore. Questo naturalmente fa sì che il popolo stesso a quel punto, non avendo più punti di riferimento, si accaccia a chiunque sappia suscitare le emozioni più profonde, le rabbie più profonde e questo la dice lunga sulla crisi della democrazia. Ma non lasciamoci andare al catastrofismo, perché a mio parere l'attuale situazione di crisi sanitaria, climatica, geopolitica, svela sostanzialmente che il re è nudo, è poca cosa, nonostante l'accumularsi delle ricchezze nel suo regno. e ciascuno di noi è chiamato a liberarsi da antichi miti che hanno immaginato nei tempi passati che ci fossero luoghi magici nei quali il socialismo reale avrebbe rappresentato la fine della storia, la grande uguaglianza sociale, finalmente tutti avrebbero avuto soddisfazione dei propri bisogni, abbiamo visto come è finita con l'Unione Sovietica e poi la grande Cina, quella di Mao, è declinata progressivamente verso una egemonizzazione di un'elite, di dirigenti del partito i quali molto probabilmente si sono straarricchiti e hanno creato solide alleanze con il capitalismo finanziario, facendo sprofondare qualsiasi idealità in nome di una ferrea ideologia pragmatica che caratterizza ormai il dominio sul pianeta. Ebbene oggi il popolo è libero da condizionamenti ideologici, ma non dalla necessità di farsi promotore di una rivolta nei confronti della ingiustizia sociale, nei confronti di un modo di vivere che è teso costantemente al consumismo sfrenato, al godimento, al diritto individuale che non tiene in nessun conto il diritto ecologico, il diritto dell'ecologia, quello che è stato ben descritto nel testo di Capra e di Mattei, e che noi dovremmo imparare a coltivare, liberi a questo punto, dalle vecchie ideologie, dall'armamentario che ha magari caratterizzato relativamente a noi vecchi le nostre giovinezze. possiamo anche liberamente dire ci siamo illusi forse non abbiamo sbagliato, ma ci siamo illusi sì e oggi in questa società senescente, in questo inverno demografico, siamo chiamati a rivitalizzare l'esistenza a dare vita alla vita non a quantificarla, ma soprattutto a qualificarla senza mai cadere nella trappola dell'illusione di una eternità irraggiungibile per l'essere umano ma questo significa porre mano a una qualità della vita che sia accessibile a gran parte dell'umanità che ci sia un pareggiamento nella biodiversità nelle opportunità che ciascuno ha su questo pianeta di vivere in dignità in dignità del lavoro, in dignità delle condizioni di vita di tutela e promozione della salute ecco, tutte queste sono considerazioni che noi dobbiamo prendere in serie considerazione e infine voglio ricordare l'italiano Trevisano uno scrittore, un grande scrittore, drammaturgo, attore che ha posto fine alla propria esistenza probabilmente l'hanno trovato morto probabilmente si è suicidato voglio ricordare questo grande scrittore veneto perché alla fine della sua esistenza qualche settimana fa un paio di mesi era stato sottoposto a un accertamento sanitario obbligatorio che è il gradino un po' più basso del trattamento sanitario obbligatorio ed era stato ricoverato in un reparto di psichiatria a Montecchio Maggiore ebbene Trevisà ha usato il suo talento relativamente a quel ricovero che evidentemente non voleva per scrivere un articolare pubblico nel quale denunciava le condizioni disumane nel 2021 dei ricoveri in un servizio psichiatrico di diagnosi e cura ebbene quell'articolo pubblicato dalla Repubblica è chiaro che il matto ha scritto ma il matto era una persona capace di scrivere non aveva una carriera letteraria e accademica in senso classico aveva un talento nella scrittura aveva fatto i lavori più umili prima di incominciare a trovare una credibilità nel campo della letteratura che significa poter vivere dello scrivere non tutti ci riescono naturalmente soprattutto se vengono dal popolo dai lavori umili che l'italiano Trevisan aveva fatto e nella sua scrittura oltre che talentuosità artistica era anche denuncia sensibilità espressa relativamente alle contraddizioni di una società perché Repubblica che naturalmente conosceva bene questo scrittore pubblica la sua denuncia e dopo un paio di settimane il reparto di psichiatria viene chiuso guardate questo è un piccolo segnale anche questo è un dettaglio significativo dove dove si sta degradando oggi l'offerta di tutela e promozione della salute mentale in questo tempo della semplificazione dell'applicazione del rasoio di Ockham anche relativamente alle questioni che riguardano la cosiddetta malattia mentale siamo di fronte a una nuova disumanizzazione rispetto alla quale dobbiamo ritornare evolutivamente non per semplice nostalgia ai grandi temi della riforma psichiatrica a individuare quali oggi siano le forme di organizzazione del manicomio di esclusione sociale di stigmatizzazione che oggi troviamo consolidati nella rappresentazione della malattia mentale e naturalmente anche nella rappresentazione di forme di esistenza che sbrigativamente categorizziamo quel Novax che ha la terza media è povero ha difficoltà economiche e qualche volta non ha neppure una casa e allora non lo si ascolta più non lo si considera neanche una persona così come ha affermato altro personaggio ambiguo della politica liberal-democratica Macron e March allora se questa è la politica tiriamoci sulle maniche e facciamo sì che sia altro sia passione idealità lotta e soprattutto liberazione dall'economia di finanza e da questo grande imbroglio collettivo che è rappresentato dai social media dalla informazione spettacolo che non permette più a chi fa informazione di andare a fondo delle contraddizioni che ci sono nella nostra società buona giornata a tutti di finanza